ciao creatura io sono meccati splendente e benvenuta o bentornata nel regno di come avrei letto dal titolo questa sera ti porto un mukbang io faccio colazione e tu ti rilassi per colazione ho scelto questo yogurt anche se qui ce lo presenta come un dessert in stile greco c'era lì della settimana greca finita da un pezzo ma avevo trovato questi yogurt che mi facevano molta cola e così li ho acquistati devo dire approvati bling della marca eritanos se si legge così Greek style Greek style yogurt quindi è yogurt greco con le pesche c'è una specie di confettura alle pesche sopra con pezzettini di pesca pezzettini di pesca c'è la vicino che fa casino poi siccome mi sembrava troppo healthy come colazione una fetta mi stavo scivolando una fettina di salami di cioccolato salami di cioccolato salami di cioccolato salami di cioccolato che ha fatto la mia vicino di casa grazie e tra l'altro non è un salami di cioccolato soft ci ha messo la nutella però è senza uova eh salami di cioccolato senza uova perché in estate ok senza burro non mi ricordo c'erano delle cose che mancavano però c'è la nutella quindi e poi da questa tassa nera si intravede leggermente c'è del succo di frutta tropicale che mi piace tanto molto rinfrescante e gustoso per me molto estivo non credo si vedrà molto si vedrà un po' non fa alcun suono e lo yogurt però è molto buono non fa penso che il salami di cioccolato faccia molto più crunchy sound o qualsiasi sound perché il yogurt non ne fa poi ci sono persone che quando mangiano riescono a fare rumore anche con gli alimenti più insonorizzati del mondo insonori quelli che sbattono la bocca e fanno rumore per qualsiasi cosa già finito a me non ce n'è tanto dentro per un po' per un po' c'è il filo qua aiuto bella dissettante bella dissettante il canale il canale rabbis smr sembra un placement che è una mia creatura fa parte del regno di cosa gli smr si sta sciogliendo e lo tenevo in frigo perché con questo caldo è un po' 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 crunchy sound c'è anche un'occiola c'è anche un'occiola c'è anche un'occiola invece l'altro giorno l'altro giorno parlando in un passato che non si capisce perchè questi video chissà quando questo video chissà quando lo caricherò comunque ho fatto una torta che va benissimo per l'estate anche questa va bene per l'estate perchè non si accende il forno e neanche quella mia non l'ha acceso che ho trovato su youtube e con una base fatta di biscotti che si sceglie i biscotti che si preferisce io ho scelto le tipo le gocciole perchè sono quelle del Lidl non sono in realtà gocciole però sono identiche probabilmente anche fatte nella stessa fabbrica e si spriciolano 300 grammi di biscotti secchi ho scelto le gocciole perchè hanno appunto anche cioccolato quindi era più sfizioso si fa questa base aggiungendo 5 cucchiai di acqua tiepida si impasta diciamo diventa come una specie di frolla e si stende sulla teglia e poi ho fatto due pudini uno al cacao e uno alla menta con lo sciroppo alla menta e poi c'è il terno si mette un po' di pudino alla menta un po' di pudino al cacao e via così così si crea tutto un disegno separato non so e buonissimo perchè non si mette in forno poi si mette direttamente in frigo si solidifica tutto ed è buona da mangiare così al cucchiaio proprio che che Grazie per la visione Buon appetito. mi sono presa due giorni di ferie perché tutti hanno fatto il ponte meglio quasi tutti hanno fatto il ponte nel mio ufficio quindi sono fatti venerdì e sabato a casa io invece venerdì e sabato sono andata al lavoro perché qualcuno doveva porfarlo non si poteva lasciare l'ufficio vuoto e allora mi sono presa lunedì e martedì a casa loro tornano e io sto a casa eravamo in tre in ufficio venerdì e sabato infatti quelli che sono venuti al lavoro lunedì e martedì si sono presi il giorno giustamente abbiamo tutti bisogno di fare una pausa ogni tanto che oggi mi impiegherò per fare i video infatti mi vedrete se siete uguali e fare i video fare le pulizie in casa fare le commissioni che non posso fare di solito e altre cose che devo fare poi martedì invece andrò al mercato chiedo tantissimo che non vado perché mi occorrono delle t-shirt non metal e non nere che vorrei prenderle per andare al lavoro anche comunque per abbinarle a outfit nuovi e mi piacerebbero color pastello tipo lilla verdino e cose così tinta unita o se ne trovo di simpatiche da poter indossare al lavoro o un po' così da ufficio le prendo perché sennò vado sempre in camicia maniche corte e c'è che ci sono dei momenti dei giornati in cui c'è tanto caldo e anche la camicia è un po' tumacce ecco bene il video finisce qui spero che ti abbia fatto rilassare e io ti auguro buonanotte buon relax ciao creato grazie a tutti